All'interno di questo progetto volevamo dimostrare che prima di tutto bisogna cambiare mente. La dimostrazione è portando queste calzature dal nostro archivio, che sono degli anni 30, e che dimostrano proprio come per Agama, in un momento di necessità e di cambiamenti sociali e politici, si è inventato qualcosa di nuovo, ma che non era peggiorativo rispetto al precedente, ma migliore.